Di parola Navigator chiama Radio Scascio, siamo stati colpiti, dobbiamo effettuare un atterraggio d'emergenza. Prepararsi all'atterraggio d'emergenza, inizio conto alla rovescia. Allacciata le cinture. Siamo atterrati a Bovalino Marina. State ascoltando Radio Scascio, la radio molto più tamarra assai. L'ultima invenzione di quel furminato di A-A-A-A-Ago MC. In collaborazione con DJ Scorza, Donna Teresa Fimmina di casa, Zio Pangolo e tanto altro ancora. Radio Scascio, Radio Scascio, le altre radio fanno solo scatafascio. Radio Scascio. Pubblicità. Signora, il corso è chiuso, non puoi stare qua. Sì, pure a me piace il papà. Signora, il corso è chiuso per lavori. Musaccio, faccio un carto che si muore. Oh signora, nascite davanti. Non voglio più tanto. Signora, nascite i iocchi che andavamo a lavorare. Sì, pure a me stanno mangiando i zanzari. Problemi di udito? Risolvili con Sbuyamed. Come? Risolvili con Sbuyamed. Risolvili con Sbuyamed. Sì, vabbò, va la viti il ricchio. Sbuyamed è un medicinale. Leggere le avvertenze prima dell'uso. Se il sintomo persiste, consultare il medico. Se il sintomo persiste ancora, potete insegnare e vi fate un segno dalla cruce. Radio Scascio State ascoltando Radio Scascio In collegamento con DJ Scorza DJ Scorza Eccomi, sono tornato Nelle brazza c'è la forza In console c'è DJ Scorza Adesso zitti che devo suonare l'ordi Scorza E venite in pista, non state tutti lì cogliuti come la burberata In collegamento con DJ Scorza E non pensate sempre ai pistoni Venite a ballare che è pieno di ragazze secchi, sì Il sarsizzo è morsa a morsa L'ha tagliato DJ Scorza Chech, 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 checherate il gudello Scorza Ballate E non state impenduti come i camicogli Ah, ah, sì Vettete le mani e fatemi sentire lo Scrooce DJ Scorza in console Iamo bev, Iamo bev, vene balla camastri Teres, non ve ne balli, non ve ne balli su di chi Piungetemi in coppie, Radio Scascio Essendo a cardo finestrino un bascio, e se vuo musica c'è Radio Scascio Radio Scascio, le altre radio fanno solo scatafascio Sono sopravvissuti al caldo, al freddo e alla fame Sono il mistero più affascinante di tutta la costa ionica Il terrore della Locride Molti scienziati hanno cercato di risolvere quest'enigma Ma ormai è tutto inutile Sono immuni a qualsiasi cosa, sono vivi e sono tra noi Sono i pesci rossi della villa comunale di Bovalino Marina Vieni a trovarli, hai tutto il tempo che vuoi Il più giovane ha solo 357 mila anni Muoiono tigri, uccelli e serpenti Ma i pesci rossi ne potenenti Radio Scascio Unda Scascio Piparolo Navigator chiama Radio Scascio Siamo pronti per il collegamento Stiamo per collegarci con la cucina di Donna Teresa Donna Teresa, bimina di casa Buongiorno a tutti amici di Radio Scascio Giovani e catanonni La ricetta di oggi è molto semplice Pani bagnato con muzzecatine e gatta Prendete una fetta di pane e l'ammogliate in una casserola d'acqua Poi andate vicino ai pidoni della mundizza E aspettate che una gatta gli ietta una muzzicata Fatto ciò, la ricetta è pronta Tornate a casa e la servite in tavola con la broccia Se vi piace va mangiate, se no ma datami a casa i tuoi cani Radio Scascio